Figliuolo in visita nelle Marche rassicura sul caso AstraZeneca A Pesaro sottoposti a tampone centinaia di alunni delle scuole medie Vallefoglia, la guardia di finanza scopre un evasore fiscale totale Cane avvelenato a Villa San Martino, il racconto della padrona a Rossini TV Giovedì 8 aprile, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale Questa sera parliamo della visita che è stata fatta oggi nelle Marche Dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza Covid-19 Una visita avvenuta proprio a poche ore dal discusso ritiro della somministrazione Del vaccino AstraZeneca alle persone di età inferiore ai 60 anni Un caso che secondo lo stesso Figliuolo non modifica però il piano vaccinale L'EMA ha detto che è un vaccino sicuro, non ha dato alcuna raccomandazione L'Italia, i nostri scienziati, quindi l'AIFA, il Consiglio Superiore della Sanità L'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute Recependo che cosa hanno fatto anche i nostri vicini con cui ci confrontiamo Quindi la Germania, il Belgio, la Francia e la Spagna Hanno deciso di fare una raccomandazione dicendo che è auspicabile L'inoculazione di questo vaccino agli over 60 E dicendo altresì che la seconda dose è sicura Quindi chi ha fatto la prima farà la seconda di AstraZeneca Come peraltro riportato dall'EMA Io non sono uno scienziato e mi limito a riportare questo Che cosa è stato fatto da me e concordemente con tutti gli altri attori in campo È riadeguare il piano, il target non cambia Quindi noi dobbiamo arrivare a 500 mila a fine mese Però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su Le seconde dosi vanno a chi l'ha già fatto la prima Le altre abbiamo allargato la platea dai 60 ai 79 Dai 60 ai 79 anni sono circa 13 milioni e 275 mila possibili utenti Di cui 2 milioni e 270 mila hanno già ricevuto una prima dose in precedenza E quindi prioritariamente il target è questo L'afflusso di dosi è coerente con questo target Quindi da qui a questo trimestre e nel prossimo Arriveranno circa 30 milioni di dosi di AstraZeneca Parlo dei due trimestri che chiaramente copriranno questo target Adesso è importante ridare fiducia a tutti e vaccinarci Se ci vacciniamo usciamo Se riusciamo a completare gli over 80 come si sta ben facendo qua ai fragili Noi riusciremo poi subito ad aprire alle classi produttive I nostri territori hanno sofferto Questo è un territorio del made in Italy Dobbiamo riportare il made in Italy nel mondo e ci dobbiamo riaprire E il generale Figliuolo così come il capo della protezione civile Fabrizio Curcio Hanno incontrato oggi il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Per fare il punto sulla campagna vaccinale nella nostra regione Mattinata nelle Marche per il commissario straordinario dell'emergenza Covid-19 Generale Francesco Paolo Figliuolo E per il capo nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio Che accompagnati dal governatore Francesco Acquaroli E dall'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini Hanno inaugurato nelle Marche il nuovo punto vaccinale di Macerata E poi toccato con mano la funzionalità del lab anconetano del campo Paolinelli Una visita che coincisa con una giornata interlocutoria per la campagna vaccinale A poche ore dal ritiro di AstraZeneca dalle somministrazioni agli under 60 Ma anche all'indomani di una giornata confortante per le Marche In cui si sono toccate 9.000 vaccinazioni in un giorno Credo che con il commissario sia già iniziato Ma debba proseguire un percorso che sia fuoriero di tanti risultati Lui è comunque una persona molto disponibile Che riesce sempre a trovare le soluzioni giuste Quindi è importante la sua visita qua nelle Marche Oggi ci sarà un punto di svolta importante Già ieri abbiamo realizzato più di 9.000 vaccini Sono un numero veramente impressionante Se pensiamo a quello che accadeva circa un mese fa E poi c'è tutta un'altra serie di importanti novità Che saranno messe sul campo Quando il numero di vaccini ci consentirà di coinvolgere Anche le associazioni di categoria, le imprese e i sindacati In questa maniera credo che raggiungeremo numeri Che potranno mettere in sicurezza la nostra popolazione il prima possibile È chiaro, proprio concludendo questo ragionamento Che tutto deriva dalla quantità di vaccini che ci vengono consegnati Ieri le Marche hanno fatto oltre 9.000 vaccinazioni E da questa settimana devono arrivare intorno ai 10.000 Per poi portarsi a regime in quello che noi vogliamo a fine mese Per essere in linea col piano Intorno alle 15.000 vaccinazioni Voglio parlare di questo centro Perché questo centro è l'essenza del piano vaccinale Che ho presentato all'inizio di marzo Sostanzialmente, come ha detto il responsabile di Unicredit Marche, è l'unione che fa la forza Cioè questo è un centro ideato dalla regione Realizzato dal comune di Macerata Ma soprattutto organizzato e potuto mettere in atto Perché c'è stata un'unione, una sinergia Fra istituzione pubblica e istituzioni private Un'unione che fa la forza nella campagna vaccinale E che sia Macerata sia Dancona Non ha dimenticato l'estrema sottolineatura Al coinvolgimento dei tanti volontari di protezione civile A supporto della campagna vaccinale L'affluenza c'è, i medici si stanno impegnando Un plauso ai ragazzi della protezione civile Che ininterrottamente da diversi mesi Sia sulle vaccinazioni e sui tamponi lavorano Oltre 62 mila le giornate uomo effettuate Nell'ambito di un anno I numeri, come diceva il generale Figliolo Stanno dando ragione nelle vaccinazioni Aumenteremo, come ha detto, a fine aprile Siamo protagonisti, sì Ma con tanto cuore E anche, stiamo anche un po' Soffrendo anche noi per dare una mano a tutti Ma ce la faremo I ragazzi si sono messi a disposizione Andiamo avanti con il cuore Con la forza E le istituzioni ci stanno riconoscendo questo grande lavoro Lo stanno riconoscendo ai volontari E questo a loro fa molto piacere Anche qui ho visto il sistema di protezione civile A supporto di queste attività Tanti volontari, tante divise colorate I privati, il pubblico Quindi uno sforzo che noi abbiamo conosciuto Anche su questa terra Su altre situazioni Credo che questo sia, come dire, qualche cosa Un po' da sottolineare E tra i nervi scoperti di questa campagna vaccinale C'è quello di alcuni comuni della nostra provincia Che continuano a chiedere un luogo logisticamente più adeguato Per vaccinare i propri cittadini E nella zona industriale La mensa di Talacchio Dove c'è uno spazio enorme per parcheggiare Ed è tutta roba del comune Quindi lo possono tenere giorno e notte Fare i vaccini giorno e notte E nel pallavitri Dove abbiamo fatto l'altra volta Importante che la regione si decida Non si può centralizzare tutto a peso Creano un danno alle persone Creano una difficoltà Soprattutto le persone più adulte È una cosa che non sta né in cielo né in terra Ecco, quindi io spero Essendo fiducioso, ottimista E anche rispettoso del ruolo della regione Che ci ripensino E non è che fanno una cortesia al sindaco Fanno una cortesia ad una città Una comunità Ad un territorio che ha più di 50.000 abitanti E più della metà di Pesero Quindi che senso ha portarli tutti a Pesero Ed ora è il momento di darvi gli aggiornamenti Sui contagi da Covid-19 Nella nostra regione Marche Dopo il 9% di tamponi positivi di ieri Siamo risaliti oggi al 17% Nello specifico sono 490 i casi di contagio Nella regione Marche Su 2.828 nuove diagnosi Per un totale di 5.589 tamponi processati La provincia di Pesero-Urbino È la più colpita con 152 casi Dati più confortanti invece per quel che riguarda i ricoveri Che per il secondo giorno consecutivo Si sono mantenuti sotto quota 900 Cioè 893 Di cui 138 in terapia intensiva Pesante il dato sui decessi Con 20 morti nelle Marche registrati nella giornata di ieri Chi è invece escluso dalla campagna vaccinale Sono i ragazzi sotto i 16 anni Per dare una maggiore garanzia in questa fascia d'età Il Comune di Pesero continua con il progetto Scuole Sicure Sottoponendo gli studenti a tampone volontario Oggi è partito il terzo screening Ieri martedì 7 aprile è ricominciata la didattica in presenza Oggi mercoledì 8 aprile riparte il progetto Scuole Sicure Il terzo ciclo di screening con tamponi negli istituti scolastici Voluto dal Comune di Pesero Che riparte dalle scuole medie Qui siamo alla scuola Gaudiano Nel centro storico di Pesero Dove tanti bambini oggi si sono sottoposti al tampone rapido È il terzo screening che ripetiamo nel Comune di Pesero Riguarda gli istituti secondari di primo grado e di secondo grado Qui in questi giorni siamo alla Don Gaudiano E stiamo tamponando le prime medie Domani e domani l'altro ci saranno i tamponi per i ragazzi di seconda e terza media Poi la prossima settimana si partirà con le scuole superiori È un'operazione nella quale ci crediamo Perché è la dimostrazione che a scuola si può stare in sicurezza E si può continuare in sicurezza se viene fatto costantemente lo screening Soddisfatti dei riscontri di partecipazione? Sì, siamo soddisfatti C'è stata grande attenzione, grande sensibilità da parte dei genitori e degli stessi ragazzi E questo penso che sia la strada giusta per poter andare avanti Quindi serve grande responsabilità E cerchiamo di riprenderci i nostri spazi come in questo caso che è la scuola La scuola Gaudiano è alla terza tornata di screening E questo terzo screening ci vede impegnati in tre giornate Suddividendo le classi da oggi a sabato Il dato di adesione è del 60% Dato che ho appena verificato Un dato assolutamente interessante Anche se nelle mie aspettative avrei voluto vederlo più alto E altro dispiacere di questa tornata di screening Non è stata offerta al personale la possibilità di sottoporsi Questo sicuramente nel pensiero che buona parte degli insegnanti e degli adulti Insomma abbiano già iniziato il percorso vaccinale Però personalmente sarebbe stato utile secondo me Testare con il tampone rapido anche gli adulti In questa occasione sono solo gli studenti a essere sottoposti Tamponi rapidi alla Don Gaudiano Così come alla Dante Alighieri, alla Olivieri, alla Manzoni Alla Leopardi, alla Galilei e alla Pirandello Questa è stata la mattinata dedicata alle prime medie Le giornate di domani e di sabato saranno invece dedicate alle seconde e terze medie Il tutto attraverso una organizzazione che si basa su una struttura mobile Coordinata da Croce Rossa, Protezione Civile, Aspes e Onlus Gulliver Sicuramente è un'azione importante anche per dimostrare la collaborazione Che c'è fra scuola intesa come scuola pubblica statale E l'amministrazione locale proprio in questa gestione della tutela della salute sicuramente Ed ora ci spostiamo a Vallefoglia Perché è finito nei guai un imprenditore operante nel commercio al dettaglio di prodotti via internet L'uomo si è rivelato evasore fiscale totale Come scoperto dalla Guardia di Finanza di Pesaro Che dopo un'approfondita indagine ha rilevato come l'imprenditore Non avesse presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2017-2018 Nello specifico è stata accertata una mancata dichiarazione di 650.000 euro di ricavi E spetterà ora all'Agenzia delle Entrate occuparsi delle relative sanzioni Oggi in via Buccari si è registrato un incidente stradale Per fortuna senza conseguenze Come ci viene mostrato dalle immagini forniteci da un telespettatore che ringraziamo Il sinistro ha riguardato un'auto e uno scooter L'incidente riaccende la tensione su questa via del quartiere Tombaccia Che sfocia sulla strada statale Il cui doppio senso di marcia continua a creare pericoli Si ricorda come lo scorso dicembre proprio su questo asfalto Perse la vita una donna moldava travolta in bicicletta Da un veicolo dei Vigili del Fuoco Oggi a Palazzo Raffaello di Ancona è stato siglato un patto Per costruire il distretto biologico unico delle Marche Secondo l'assessore regionale all'agricoltura Mirko Carloni Si tratta di uno strumento chiave per incentivare l'economia locale E un alleato essenziale per l'equilibrio del processo alimentare Un progetto estremamente ambizioso che punta a creare nelle Marche Il distretto biologico più grande d'Italia Con unità di intenti sottoscritta fra Regione ACG, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confcooperative, Copagri, LegaCop, UECop, Unci e Camera di Commercio E dopo il restringimento delle carreggiate che dura da mesi Per il cavalcaferrovia di Pesaro è arrivato il momento della sostituzione dei parapetti esterni Risultati deteriorati dopo le indagini strutturali effettuati proprio dallo stesso comune di Pesaro Si tratta di un primo stralcio di lavori per mettere in sicurezza appunto il ponte Ma soprattutto riallargare le carreggiate Nelle scorse edizioni del nostro telegiornale vi abbiamo parlato del grave episodio Delle polpette avvelenate trovate in un parco di Pesaro nel quartiere Villa San Martino E che nel giorno di Pasquetta sono state addentate da una malcapitata cagnolina Per fortuna ora sta meglio E noi in esclusiva questa sera abbiamo intervistato la proprietaria di questa cagnolina Ci troviamo su una panchina del parco dedicato a Sparta e Lea Trivella Parco di Viabecci a Villa San Martino Parco che come potete vedere è stato transennato per un episodio molto grave successo nel lunedì di Pasquetta Sono stati trovati dei bocconi di polpette avvelenate proprio su questo parco E si è rischiato grosso, si è rischiata una tragedia Una malcapitata cagnolina ha addentato questo boccone Però la nota lieta è che a pochi giorni di distanza la cagnolina sta molto meglio Siamo qui con la padrona Giulia, la cagnolina Sofì che vediamo qui a fianco a noi Dunque un lieto fine che non toglie la gravità dell'episodio No, in effetti no, è un episodio molto grave Non solo per i cani ma anche per il fatto che qui ci sono tanti bambini Quando è successo lunedì questo episodio I miei cani stavano giocando con i bambini proprio vicino a questi bocconi di carne Non ci eravamo accorti nessuno Fino a che Sofì non ne ha addentato un pezzo Per fortuna io per istinto le ho aperto subito la bocca Gliene ho tolto una parte ma una parte l'ha mangiata perché chiaramente essendo carne si è subito sciolta E niente da lì è iniziato il calvario perché poi ho dovuto farla vomitare Ha vomitato roba blu quindi il veleno Ho dovuto farle le flebo perché chiaramente era disidratata Ho dovuto darle carbone attivo perché col carbone attivo vengono assorbiti dei residui di veleno se ancora ci sono Quindi insomma è stato un calvario anche perché il cane chiaramente era sfinito E io ero preoccupatissima ho subito avvisato tutto il vicinato Ho fatto mandare via i bambini ho fatto mandare via gli altri cani Ho fatto mandare via tutti gli animali che potevano esserci e le persone che c'erano Per fortuna si è risolto bene L'abbiamo presa in tempo e Sofì sta bene Però è stato veramente molto molto difficile Perché in una frazione di secondo devi realizzare quello che sta capitando E quello che stava capitando era che il mio cane poteva morire O poi sai mille pensieri perché con tutti i bimbi che c'erano mi è venuto da pensare E ci sono bimbi che magari inadvertitamente toccano queste cose e poi mettono le mani in bocca Cosa succede? La carne la stanno analizzando Sembra che sia veleno di lumaca Il veleno per la lumaca è un veleno molto molto potente Provoca una morte lenta, dolorosa, crampi E non è una morte immediata Possono passare anche dei giorni Quindi tutti questi pensieri chiaramente ti distruggono Ti distruggono dentro perché non sai se riesci a salvare la vita al tuo cane Per fortuna dico è andata bene perché il veterinario mi ha aiutato tantissimo Perché io un po' in panico ero Però il veterinario è stato veramente bravo Mi ha aiutato e mi ha detto come dovevo comportarmi per darle subito i primi soccorsi E poi l'ho portata in clinica e lì ci hanno pensato loro a salvarmela Dunque Giulia decisiva la tempestività di intervento e la bravura del veterinario Sì assolutamente sì anzi colgo l'occasione di ringraziarla personalmente È la dottoressa Torelli Carla che è stata veramente di aiuto tantissimo Perché al telefono lei mi ha guidato e mi ha detto quello che dovevo fare Per darle appunto i primi soccorsi Ecco ora l'episodio è grave c'è anche la caccia ai responsabili Tu Giulia hai fatto denuncia Sì 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 ho fatto subito denuncia alla forestale E chiaramente sono intervenuti subito a controllare il parco Anche perché purtroppo sono stati trovati altri pezzi di carne Insomma lungo il parco, lungo tutto il tragitto E in altri punti e in altre zone Quindi sì abbiamo fatto denuncia Perciò stanno cercando i responsabili Che mi auguro trovino Perché è una cosa veramente gravissima Ce l'auguriamo anche noi Speriamo che sia davvero l'ultima occasione In cui siamo costretti a parlare di un episodio tanto spiacevole E Rossini TV continuerà a dare voce a queste segnalazioni Perché Rossini TV è amica degli animali Tra l'altro vi anticipo già che prossimamente Vedrete sul canale 633 un programma dedicato proprio agli animali Invece andiamo a vedere quali sono i programmi per questa sera Perché alle 21.15 come tutti i giovedì Seguiamo le gesta della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Questa sera ospiti di Insieme a Canestro Matteo Tambone che è la guardia della Carpegna Prosciutto Poi ci sarà l'imprenditore Maulo Papalini Che è presidente della Papalini Spa Roberto Terenzi ex giocatore della Vittoria Libertas E poi vi ricordiamo anche il nostro appuntamento Con la musica d'autore La musica veramente ricercata Che abbiamo creato insieme a Spazio Web Questa sera alle 22.15 ci sarà Lorenzo Pizzorno E verrà intervistato da Michele Pansieri e Topazio Perlini E poi vi ricordiamo che domani è venerdì Quindi la mattina alle 10 in diretta Torna a Casa Rossini Vi ricordiamo anche il numero Per mandare le vostre sensazioni o segnalazioni O per segnalare delle cose in particolare Oppure partecipare al programma in diretta Tramite Whatsapp 351 70 899 77 Domani ci sarà Laura Cicco Che è titolare dell'Angolo dei Sogni Una nuova attività che è stata inaugurata Proprio in periodo di lockdown E poi ci sarà Antonino Di Gregorio Che è consulente editoriale di Parole d'Arancio E sicuramente ci proporrà dei libri fantastici Quindi non perdetevi l'appuntamento domani E allora io vi ringrazio come sempre Vi ricordo la nostra rassegna stampa Domani alle ore 7.20 Domani ci sarà con voi Daniele Sacchi Buona serata